Raccontarvi in un'oretta, 45 minuti, qualcosa relativo alle offering nell'ambito e-commerce di IBM e poi in particolare di come queste possano cooperare con una componente della parte Lotus che è Web Content Manager. Come presentazione io faccio parte di IBM, del software group più o meno dalla sua nascita e mi sono occupata in passato di soluzioni legate alla parte... C'è qualcosa che non va? Mi sembra di avere spinto il bottoncino. Faccio parte del software group in IBM e mi sono occupata in passato di soluzioni legate agli aspetti di integrazione del middleware tipo MQ, message broker e quindi adapters, quindi tutto ciò che è legato all'integrazione. Negli ultimi due anni faccio parte di questo nuovo brand che è sorto all'interno di IBM che è chiamato Industry Solution e che ha raccolto tutta una serie di soluzioni più applicative e più orientate ad esigenze di business, nell'ambito delle quali è collocata anche la parte di e-commerce. Ok. Per cui inizialmente in questa presentazione vediamo un attimo qual è la strategia che IBM ha messo in atto ormai da un anno più o meno in relazione alle soluzioni legate al mondo della commerce, al mondo del commercio elettronico e non solo. Questa strategia è chiamata Smart Air Commerce ed è in pratica un modo per cercare di rispondere alle esigenze legate alle problematiche di business e di vendita dei nostri clienti in modo onnicomprensivo, quindi prendendo in considerazione non solo l'aspetto della vendita, pure semplice, ma anche tutto ciò che ci sta prima, quindi gli aspetti di marketing per attrarre il cliente o anche gli aspetti di approvvigionamento e quindi di buy, come pure gli aspetti del post vendita e quindi di servizio e di customer care una volta che il prodotto è stato venduto. Questo è veramente importante perché IBM ha intrapreso tutti i quattro riquadri del circolo buy, market, sell and service e che hanno però al centro il cliente, proprio perché negli ultimi anni, grazie all'affermazione sempre maggiore delle tecnologie digitali, dei social network e dell'accesso al mondo internet, il cliente è diventato sempre di più evoluto e sempre più in grado di controllare le operazioni. Mettere il cliente al centro, cercare di capire quali sono le sue esigenze, cosa il cliente vuole e in base a quello offrire i prodotti al cliente stesso. Per questo motivo al centro della strategia Smart Air Commerce c'è la figura del cliente e tutta una serie di soluzioni che sono tese a individuare i suoi bisogni, individuare quello che il cliente si aspetta e via via andare a vendere e a comunque fornire anche un servizio, un supporto di tutto ciò che gli si è venduto successivamente. La parte di cui parliamo oggi, che è la parte di commerce, è ovviamente orientata al rettangolino della sell, quindi della parte di vendita di prodotti online. Però come vedete la strategia Smart Air Commerce ha fatto sì di acquisire tutta una serie di soluzioni che hanno composto un portafoglio di prodotti estremamente vasto. Questa chart serve fondamentalmente a collocare, in base sempre a queste suddivisioni di buy, market, sell and service, le varie acquisizioni che IBM ha fatto e sta facendo per andare a indirizzare tutte le varie esigenze. Vediamo che al centro c'è ad esempio West Air Commerce, che è di fatto l'unico prodotto all'interno di questo portafoglio interamente IBM, perché è un prodotto che storicamente è presente nella proposta IBM da forse più di dieci anni ed è un prodotto interamente realizzato e sviluppato dai laboratori IBM. E ovviamente è posizionato al centro di questa strategia perché rappresenta il motore attraverso cui andiamo a vendere online i prodotti ai clienti. Però questo tipo di offerta è stata arricchita da tutta un'altra serie di componenti, ad esempio nell'ambito del market, cioè di come andiamo a sollevare la domanda, e andiamo ad accattivare, ad attrarre il cliente ad esempio sui nostri siti, sono state acquisite due soluzioni che sono unica ai Coremetrics. Coremetrics che è più orientata all'analisi del comportamento del cliente all'interno del sito e di conseguenza fornisce degli strumenti per suggerire delle raccomandazioni e per riuscire a proporre delle iniziative promozionali o di marketing al cliente stesso, unica che è una suite di prodotti specializzati proprio nella gestione di campagne di marketing, non solo online ma anche attraverso il cartaceo, attraverso le mail e attraverso ogni strumento di comunicazione. Demand Tech è una soluzione che è stata acquisita più orientata all'ambito retail, all'ambito dei supermercati per identificare come prezzare i prodotti in relazione alla possibilità quindi di aumentare le vendite dei prodotti stessi e in relazione quindi sempre ancora una volta al comportamento del cliente quando varia il prezzo del prodotto. Poi ci sono state le acquisizioni della parte Sterling che come vedete compare in diversi punti della figura diciamo del portfoglio e la parte Sterling ha portato, ha arricchito questo portafoglio prodotti con una componente infrastrutturale che è fatta dal discorso del manager file transfer e della interazione di tipo B2B con i clienti ad esempio per lo scambio di fatture, lo scambio di documenti secondo protocolli differenziati che possono andare dall'HTTP all'FTP alla S1, S2 quindi la possibilità di scambiare ad esempio anche con i formati EDI documenti col cliente stesso e però Sterling Commerce aveva all'interno del suo portafoglio anche tutta una serie di prodotti di fascia diciamo più applicativa che erano proprio orientati al discorso del commercio elettronico e infatti li troviamo anche qui nell'ambito del sell and service perché abbiamo una serie di componenti come ad esempio l'order management che consente di gestire una volta acquisito l'ordine farne la gestione, avere una singola vista dell'ordine anche attraverso più canali di vendita quindi non solo il canale web ma anche il canale del negozio fisico o il canale del call center. Poi vabbè altre componenti che sono parte del portafoglio sono la parte i-log in particolare non tanto per le business rules ma per la parte di ottimizzazione perché i-log aveva alcuni prodotti che erano particolarmente mirati al discorso dell'ottimizzazione della logistica. E infine una delle ultime acquisizioni che sono state fatte che è Amtoris che è una suite di prodotti legati al discorso del sourcing, del procurement e dell'analisi delle spese all'interno del cliente. Qui in basso ho sottolineato anche l'IBM Customer Experience Suite per mostrare che all'interno di questa strategia c'è una forte sinergia tra tutto ciò che è Smart Air Commerce e tutto ciò che è la parte IBM Customer Experience Suite che di fatto è l'insieme dei prodotti tradizionali Lotus dalla parte collaboration, la parte portale, la parte same time e quindi c'è una forte integrazione tra questi due ambiti soprattutto per tutti i discorsi social e quindi per i discorsi di condivisione di documenti nonché per i discorsi di contenuto come vedremo dopo. E adesso parliamo di WebSphere Commerce. Allora WebSphere Commerce è un prodotto che fa parte appunto della suite Smart Air Commerce ed è presente già da parecchi anni nella sua ultima versione che è la versione 7 è particolarmente strutturato per andare incontro alle esigenze attuali di rendere il sito di commerce sempre di più attrattivo nei confronti del cliente e quindi dare una customer experience e una shopping experience sempre più accentuata. Quali sono gli ingredienti per realizzare un sito di e-commerce? Innanzitutto è necessario avere un runtime e quindi un ambiente in cui gira un'applicazione web che è appunto quella che gestisce il commercio elettronico. Questa applicazione web viene fornita grazie a WebSphere Commerce con il concetto di starter store nel senso che WebSphere Commerce offre non solo l'infrastruttura basata su application server all'interno della quale gira l'ambiente di commerce ma fornisce anche una serie di template che rappresentano già dei negozi standardizzati con tutta una serie di funzionalità di cui ad esempio qui vediamo il Medisons che è il negozio di tipo B2C. Quindi a partire da questo tipo di template che ha già una sua struttura, già delle funzionalità sia dal punto di vista della navigazione sia dal punto di vista dei processi di acquisto già definite è possibile poi andare a fare le personalizzazioni e le customizzazioni che consentono poi la realizzazione del sito vero e proprio. Innanzitutto questo tipo di interfaccia è un'interfaccia completamente Web 2.0 e quindi ha una serie di funzioni come ad esempio il carrello sempre in evidenza il fatto che quando si scorre con il mouse sopra lo si ingrandisce e quindi si vede il contenuto del carrello il discorso della gerarchia del catalogo e delle ricerche fatte all'interno del catalogo stesso e poi appunto la struttura diciamo del sito in modo da posizionare nelle diverse parti delle pagine stesse o dei banner o delle offerte promozionali o le descrizioni del prodotto. Quindi lo Start Store diciamo è una componente abbastanza importante perché rappresenta il modo per velocizzare poi le fasi di implementazione e di realizzazione del sito. Poi ovviamente altri ingredienti per supportare un sito di commercio elettronico sono ovviamente la possibilità di creare un catalogo un catalogo di prodotti quindi la possibilità di caricare i prodotti all'interno di questo catalogo e di farne la gestione e poi tutti i discorsi promozionali e di marketing quindi la possibilità di applicare delle promozioni sui prodotti e di inventare dei processi che consentano di innescare attività di marketing il più possibile personalizzate per il cliente che sta visitando il sito in quel momento. Altro tema molto importante è il tema della search perché è importante che il cliente eseguendo una search all'interno del sito riesca a trovare i prodotti che cerca o addirittura riesca a trovare il prodotto che vogliamo noi che trovi quindi magari un prodotto che è in una particolare promozione e quindi vogliamo che esca all'inizio dell'elenco dei prodotti trovati. Poi c'è il discorso ovviamente del mobile che è estremamente attuale in questo momento e quindi il fatto di poter vivere lo stesso tipo di navigazione e di esperienza d'acquisto non solo da web ma anche dai device che siano mobile, smartphone o iPad la possibilità di interagire col mondo dei social network perché ormai tutti i siti di commercio elettronico hanno la possibilità di agganciarsi a Facebook, a Twitter e quindi questo viene visto come un canale sicuramente per attrarre il cliente sul sito sicuramente anche per fidelizzarli in qualche modo e quindi cercare di essere anche una forma di customer care nei confronti del cliente. Poi un altro aspetto molto importante è il fatto che WebSphere Commerce è sia multi brand che multi site ovvero se vogliamo creare dei siti che siano pubblicabili in tutto il mondo WebSphere Commerce offre la possibilità di avere il sito in tante lingue diverse o anche il fatto di poter ospietare all'interno di una stessa istanza del prodotto più negozi diversi magari in una nazione mi presento con un certo look and feel in un'altra nazione con un altro look and feel oppure in base al brand se la mia azienda gestisce più tipi di brand faccio diversi siti per ciascun brand che voglio vendere e poi ci sono tutti gli aspetti legati all'integrazione col back-end perché WebSphere Commerce si preoccupa di acquisire l'ordine quindi di portare il cliente sul sito fargli scegliere il prodotto far sottomettere l'ordine però poi a quel punto è necessario andare a trasferire l'ordine sui sistemi di back-end che sono poi quelli che ne fanno l'effettiva fulfillment e tutte le successive fasi di gestione dell'ordine e in questo ambito ovviamente WebSphere Commerce espone tutta una serie di bocchettoni di ingresso e di uscita per scambiare i dati con i sistemi di back-end comeppure ovviamente se ci integriamo con le altre componenti dell'offerta Smart Air Commerce cioè l'order management per esempio è possibile andare anche a integrare la parte di front-end WebSphere Commerce con la parte di back-end order management e avere quindi una soluzione completa nella gestione dell'ordine quindi volendo un po' riassumere quali sono gli aspetti significativi che WebSphere Commerce offre innanzitutto il discorso di una foundation ormai consolidata nel senso che trattandosi di un'applicazione web è importante sottolineare che WebSphere Commerce gira all'interno dell'application server WebSphere e quindi sfrutta tutte le caratteristiche di alta affidabilità di sicurezza di clusterizzazione e di load balancing che ovviamente l'application server mette a disposizione e così pure dal momento che dobbiamo creare un catalogo il catalogo viene creato all'interno di un database relazionale che è o il DB2 che viene incluso nel prodotto oppure Oracle poi abbiamo tutto il discorso legato al marketing e quindi alla possibilità di attrarre il cliente e farlo navigare nel nostro sito e convincerlo all'acquisto per il discorso del marketing esiste innanzitutto un tool di business che dopo vedremo e che rappresenta un'interfaccia più orientata all'esperto di marketing e non tanto alla persona di IT attraverso la quale il business user può andare a definire le iniziative di marketing per il cliente e andare a personalizzarle in vario modo tra queste attività di marketing che il business user può fare esiste una funzionalità chiamata precision marketing che in pratica consiste nel fatto di avere a disposizione una serie di icone una serie di nodi attraverso i quali creare una sorta di piccoli flussi di piccoli processi che rappresentano delle azioni da fare per il cliente a fronte di un'azione del cliente all'interno del sito quindi a fronte del fatto che il cliente abbia navigato in una certa pagina del sito oppure si è arrivato sul sito proveniendo da Facebook oppure si è arrivato sul sito proveniente da una particolare search fatta su Google allora possiamo innescare una promozione particolare per quel cliente o visualizzare un banner particolare dedicato a quel cliente poi come dicevo prima altri due aspetti importanti sono l'integrazione con la parte mobile e con la parte social per la parte mobile WebSphere Commerce mette a disposizione la possibilità di avere di fruire lo stesso sito anche attraverso i tool mobile quindi telefonini mobile smartphone tablet e soprattutto con l'ultima versione è stata rilasciata anche una serie di applicazioni sia native che ibride soprattutto orientate proprio al mondo degli smartphone sia Android che iOS per la parte social il sito ha sia la possibilità di avere una sua area per i rating e il review dei prodotti o anche per i blog quindi per commentare il prodotto o a raccontare delle esperienze fatte col prodotto come pure dà la possibilità di interfacciarsi con servizi esterni che sono più specifici proprio per questo tipo di attività ad esempio nell'ambito dei rating e review solitamente è importante sfruttare anche un servizio esterno perché magari è necessario che ci sia qualcuno che controlla quali sono le review fatte sui prodotti e fa un minimo di moderazione sui commenti che possono essere scritti un altro aspetto che è abbastanza richiesto ultimamente è anche il discorso di utilizzare il sito di commerce non solo in un'ottica B2C quindi rivolto al cliente finale ma anche in un'ottica B2B quindi andando a instaurare col proprio partner commerciale una relazione di acquisti e di vendita attraverso il sito di commerce questa cosa diciamo che in passato era un po' meno sviluppata nel senso che solitamente i siti B2B erano anche bruttini perché tanto comunque il proprio partner doveva alloggarsi doveva scambiare gli ordini o comunque le richieste di ordine con la società principale in realtà ultimamente anche nell'ambito B2B è emersa l'esigenza di essere sempre di più efficaci nell'attrarre anche i fornitori nell'ambito di un discorso B2B e quindi le stesse logiche di social commerce o anche di integrazione con il mondo mobile che sembrerebbero più da consumatore finale in realtà si applicano sempre di più anche come modalità per fidelizzare i propri fornitori andando ancora un po' più all'interno del prodotto questa è un po' l'interfaccia grafica del management center che rappresenta il tool attraverso il quale è possibile configurare e gestire il sito di e-commerce dopo lo vedremo anche in una piccola demo attraverso questo tool è possibile fare la gestione innanzitutto dell'ambito del catalogo quindi visualizzare il catalogo la gerarchia dei prodotti e andare in modalità abbastanza semplice a andare a manipolare e modificare ciò che è necessario all'interno del catalogo stesso tutto quello che riguarda sia il management center sia che riguarda anche gli starter store quindi la parte di front end della commerce è ampiamente configurabile e personalizzabile e questo è molto importante proprio perché nessun sito di commerce è uguale all'altro e sempre sicuramente per quanto uno presenti un template completo e ricco di funzioni ci sarà sempre quella funzione in più che il cliente può richiedere e quindi l'estrema flessibilità nella customizzazione è una cosa molto importante tra le possibilità di customizzazione ci sono anche le integrazioni verso prodotti esterni perché ovviamente web sphere commerce è un prodotto autosufficiente nel senso che da solo può supportare una vendita online creare il proprio catalogo gestirlo caricare immagini filmati e tutto quanto però ovviamente dipende qual è l'obiettivo finale quindi in caso di soluzioni magari di un livello più elevato o comunque di esigenze specifiche soprattutto nell'ambito della gestione del catalogo e della gestione dei contenuti web sphere commerce è aperta all'integrazione con altri prodotti che in caso IBM si chiamano per la parte catalogo i prodotti dell'area PIM quindi i prodotti dell'area information management dedicati alla master data management e quindi alla gestione vera e propria del catalogo prodotti come pure dal punto di vista della gestione dei contenuti i vari content management system dei quali oggi vediamo la parte web content manager che cos'è WCM io lo dico da utente finale nel senso che non ho ovviamente una competenza specifica su questo prodotto però web content manager è una componente solitamente strettamente legata al portale che consente di gestire i contenuti del sito e ovviamente è finalizzata proprio a questo tipo di scopo per cui offre in questo senso tutta una serie di funzionalità legate ad esempio al fatto che ci sono più operatori che caricano contenuti e che quindi devono versionarli gestirli avere accesso ad essi cambiarli fare dei workflow approvativi quando viene fatta una modifica e quindi è un ambiente fortemente specializzato proprio per questo tipo di esigenza della gestione del contenuto la cosa utile di questo tipo di tool è il fatto che una volta che ho caricato i contenuti e ho uno strumento per gestirli poi li posso usare in quanti front end ho a disposizione quindi ho un portale posso attingere dalla parte web content manager per alimentare il portale con questi contenuti ma se incidentalmente voglio anche farmi un sito di e-commerce perché non attingere gli stessi contenuti che ho già caricato nel mio web content manager ovviamente questo ottimizza molto l'utilizzo del lavoro già fatto e quindi consente di integrare sempre di più i due ambiti per questo è stato realizzato una sorta di proof of technology che è in pratica una sorta di demo customizzata che è stata realizzata nel laboratorio diciamo a metà tra la parte commerce e la parte content manager per dimostrare tre possibili scenari di integrazione tra la parte web sphere commerce e la parte web content manager e adesso andiamo brevemente a vederli e anche a vederli diciamo dal vivo con una piccola demo il primo scenario è ad esempio l'utilizzo di un ambiente integrato tra web sphere commerce e web content manager per aggiungere del contenuto che può essere un video che può essere una figura può essere una descrizione a uno specifico prodotto del catalogo sposto di qua ok allora qui quest'ambiente è fatto in pratica di due sistemi di due macchine virtuali su una c'è installata la parte di commerce che è anche questa che vediamo e su un'altra invece che funge praticamente da ambiente client ambiente collegato ma non non lo vediamo è la parte dove è installata la parte content manager questo è il tool di gestione di web sphere commerce che è chiamato management center e come vedete è fatto di tutta una serie di folder che rappresentano i diversi i diversi tipi di attività che possono essere fatti all'interno del sito quindi dalla gestione del catalogo alla gestione di aspetti di marketing alla gestione delle promozioni alla gestione anche dei prezzi e del filtraggio dei prezzi la gestione dello store stesso e come ho detto prima possiamo gestire da questo tool più store e la gestione dei workspace che è un discorso legato al fatto di avere anche qui più sviluppatori e più utenti di business che interagiscono con i contenuti del sito e anche in questo caso è necessario fare una sorta di versioning e di controllo in modo che non vengano mescolate le modifiche fatte dall'uno o dall'altro e così via quindi da qui posso gestire grossomodo tutte le funzionalità del mio sito se andiamo sulla parte del catalogo nella parte del catalogo in pratica abbiamo la struttura del catalogo stesso con le categorie i diversi livelli di categorie e da questa parte vediamo un esempio di alcuni prodotti che sono stati caricati nell'ambito del singolo prodotto ho tutta una serie di informazioni che sono poi quelle che verranno mostrate all'interno del sito e ad esempio all'interno di queste informazioni ho anche le stesse figure che sono quelle poi che mi rappresentano il prodotto all'interno del sito la customizzazione che è stata fatta per integrare la parte di web content manager è di aggiungere tra gli attributi possibili che posso associare al prodotto una parte chiamata di related content quindi contenuti che voglio associare al mio prodotto e all'interno di questa area io posso andare a fare una search già portandomi nel sistema WCM e andare da questo repository quindi da repository di contenuti del web content manager andare a prendere dei contenuti da mettere all'interno del prodotto ad esempio due eccoli qua come vedete ciascuno di questi componenti ha un user ID che ricorda diciamo il fatto che sono collegati alla parte del portale e se la rete non è troppo lenta ne posso anche fare una preview però mi sono scollegata non è stata troppo ottimista a fare la preview ecco in pratica qui mi sono spostata sull'ambiente WCM come vedete anche dalla indicazione dell'indirizzo portal set e qui ho un esempio di contenuto che ho predisposto all'interno del portale se vado a salvare questo tipo di configurazione posso poi andare a vedere attraverso la funzionalità di preview come si presenta questo aggiornamento che ho fatto questo è il mio starter store di tipo B2C vado a individuare la categoria degli apparel e la categoria dei pantaloni e vado sul prodotto che ho appena modificato e all'interno della descrizione del prodotto ho questa sezione degli articoli collegati che contiene appunto i due nuovi contenuti che ho aggiunto di cui uno appunto è questo banner che abbiamo visto e quindi in questo modo io posso alimentare anche eventualmente con dei filmati o anche degli elementi anche più voluminosi la parte descrittiva del prodotto stesso l'altro aspetto interessante è che dal tool di gestione io posso comunque fare delle attività di ricerca direttamente all'interno dei repository web content manager se torniamo un attimo sulla presentazione abbiamo quindi visto in questo primo scenario la possibilità appunto di fare la search di contenuti dal management center all'interno del content manager la possibilità di associare i contenuti al prodotto e poi appunto la visualizzazione all'interno del sito stesso del contenuto ma ancora più interessante di questo è il secondo scenario che è quello della popolazione di un marketing spot della commerce innanzitutto dobbiamo dire che cos'è un marketing spot lo starter store gli starter store di websphere commerce hanno una struttura come avete visto ben definita e in realtà queste pagine sono strutturate con una serie di settori chiamati marketing spot che sono quelli in cui attraverso l'utente il tool di business l'utente può andare a personalizzare e a modificare quello che effettivamente apparirà sul sito in termini di promozioni di banner e di informazioni legate ai prodotti e quindi all'interno di ciascuna pagina del mio store io posso avere tanti di questi rettangoli che quindi mi consentono di mostrare dei contenuti che possono quindi variare anche abbastanza rapidamente e possono essere variati da un utente di business e non dall'intervento dell'IT che deve fare una modifica effettiva del sito come dice qua appunto sono utilizzati dagli utenti di business dai lobby user per realizzare attività di marketing il più possibile personalizzate e mirate nei confronti dei clienti e questa possibilità è anche legata al fatto che i contenuti definiti all'interno di questi marketing spot possono essere dinamici perché possono essere soggetti a delle particolari regole relative appunto al fatto che il cliente fa parte di un certo segmento oppure è arrivato sul sito attraverso una certa strada e tutto questo è definito dal precision marketing in pratica i meccanismi di precision marketing sono quelli che consentono di associare a dei particolari trigger delle azioni promozionali nei confronti dei clienti qui vengono elencati alcuni esempi di questi trigger quindi dove mi trovo all'interno del sito il fatto che quali sono gli acquisti precedenti che ho fatto ma anche il fatto che provengo da una social network quindi ad esempio mi sono loggata al sito di commercio elettronico con le mie credenziali facebook oppure il fatto che ho messo un like a un particolare prodotto quindi anche un'integrazione un'interazione di tipo social può essere un trigger a una particolare offerta promozionale e in corrispondenza a queste trigger posso stabilire delle azioni azioni che possono essere ad esempio far atterrare il cliente in una specifica landing page che non è la pagina standard del sito ma è una pagina con una promozione mirata per lui oppure in quelle che vengono chiamate dialog activity fare la spedizione di un email o di un sms per mandare un coupon o per attrarre nuovamente il cliente sul sito così pure altri tipi di promozioni e anche le possibilità di dare suggerimenti di cross sell e di upsell che cos'è una web activity cos'è una marketing activity una marketing activity è di fatto una specie di processino come viene raffigurato qua che appunto associa a questi trigger delle azioni in questo caso l'attività è di tipo web quindi significa che in relazione a un particolare marketing spot io visualizzerò una certa cosa in relazione al fatto che sono un cliente di un particolare segmento e quello che mi verrà fatto vedere in quel marketing spot sarà un determinato contenuto che poi incidentalmente in questo caso è un contenuto che vado a prelevare dalla parte VCM adesso andiamo a vedere dal vivo questo tipo di attività mi sposto sulla sezione marketing del tool management center e qui ad esempio vedete che ho l'elenco di tutti i marketing spot definiti all'interno del sito e in particolare il marketing spot che mi interessa modificare è questo chiamato home page general feature products se riprendo la preview che forse avevo già qua se riprendo la preview del sito dal punto di vista del tool di utilizzo posso anche fare una uno show dei marketing spot quindi vedere dove sono collogati i miei marketing spot e quindi vedo che c'è questo marketing spot chiamato home page general feature products che è in questo momento vuoto cioè non è utilizzato e non ho messo all'interno di esso nessun tipo di informazioni per cui attraverso il tool posso innanzitutto la cosa più semplice da fare è associare un contenuto di default a questo marketing spot e questo contenuto di default lo posso andare a prendere dalla parte content manager con un drag and drop porto questa che è una immagine all'interno della definizione del marketing spot faccio save e con un refresh della pagina nella parte che vedevamo prima home page general feature e product ho adesso questo banner che è quello che ho recuperato dalla parte content manager in più l'integrazione con la parte content manager arricchisce questa che sarebbe una funzionalità normale della parte commerce anche della possibilità di fare un edit direttamente a questo livello del mio contenuto perché se clicco edit questo mi collega direttamente all'ambiente web content manager mi porta direttamente sul contenuto che ho messo e posso anche andarlo a modificare perché non mi piace ad esempio che ci siano i punti esclamativi ok qua l'ha salvato vediamo se lo modifica anche qui e non ci sono più i punti esclamativi quindi l'integrazione con la parte content manager non mi dà solo la possibilità di attingere a un contenuto sulla parte WCM ma anche la possibilità di editarla online attraverso lo strumento messo a disposizione dalla commerce però in questo caso siamo ancora su un contenuto statico cioè io ho definito un default per questa parte per questa porzione della mia pagina che però vedranno tutti allo stesso modo se invece lo voglio far diventare più mirato per il singolo cliente allora lo tolgo da qua e mi sposto sulla parte delle attività sulla parte delle attività qui ne ho alcune che sono già attive però vediamo alcune che sono ancora inattive quindi ho già preparato delle marketing attività che in questo momento però non vengono ancora eseguite ho aperto quella sbagliata ecco e qui abbiamo questo tipo di attività che è chiamata appunto cargo recommend ed è in pratica una web activity che in corrispondenza del marketing spot che abbiamo appena visto va a mostrare lo stesso banner di prima ma soltanto per i clienti che fanno parte di un particolare segmento che in questo caso viene chiamato repeat customers quindi i clienti che in pratica sono già entrati nel sito hanno già fatto degli acquisti del sito per attivare questo tipo di attività schiaccio questo bottoncino e per verificarla innanzitutto possiamo vedere che facendo un refresh del sito è sparito il banner perché in questo momento io sono un utente qualunque e effettivamente non ho più la visibilità del banner di prima perché ho tolto il default content per quel marketing spot per vedere invece che per i clienti di tipo repeat il marketing spot verrà mostrato vado qui dove sono elencati diversi customer segments vado sul segmento repeat customer e posso fare la preview del sito come se fosse un cliente di quel gruppo lì quindi questo è anche abbastanza utile per chi esegue questo tipo di personalizzazioni perché può fare già delle preview del sito senza necessariamente dover andare in produzione o subito aggiornare il sito reale e quindi vedete che presentandomi come cliente di quel segmento ho invece la visibilità del banner specifico e questo era il secondo scenario quindi il secondo scenario appunto abbiamo visto come è possibile popolare una sezione del sito con un contenuto preso dalla parte content manager che può essere sia un contenuto di default sia un contenuto dinamico risodinamico attraverso la realizzazione di web activity il terzo scenario invece sfrutta una funzionalità che è messa a disposizione da WebSphere Commerce per integrarsi in generale con tutti gli strumenti di gestione di contenuti che è la possibilità di interfacciarsi attraverso la modalità RSS Atom Feeds in pratica attraverso un connettore WebSphere Commerce è in grado di recepire via HTTP o via FTP dei feed che arrivano da strumenti di gestione di contenuti che supportano questo stesso standard e quindi attraverso questo connettore è possibile recepire i contenuti che vengono poi caricati all'interno del database della commerce attraverso l'utility generalmente utilizzata che è la data load quindi in pratica il contenuto che arriva come feed ad esempio in questo caso dalla parte Web Content Manager viene poi passato agli strumenti di data loading per essere caricato effettivamente sul database di WebSphere Commerce dunque adesso per vedere questo per vedere questo torniamo qua un attimo ok devo andare qui devo un attimo collegarmi alla parte dove sono ospitati questi contenuti sto un attimo perdendo il punto però in mio soccorso può venire la figura che mi ero salvata che era questa in pratica a partire da l'ambiente content manager se io localizzo quello che è il contenuto che voglio pubblicare verso la parte WebSphere Commerce nel momento in cui il contenuto viene creato modificato salvato all'interno della parte content manager attraverso lo step di Next Stage che fa parte degli step di workflow di gestione della parte contenuti questo meccanismo innesca in pratica la spedizione di questi contenuti verso la parte Commerce e all'interno del database Commerce a questo punto io mi ritrovo gli stessi contenuti che sono stati generati e spediti in pratica alla Commerce il risultato lo posso mostrare e in pratica sempre in una delle sezioni del Management Center nella sezione degli asset io posso vedere che tra gli asset a disposizione esistono questi che sono numerati perché praticamente sono frutto di più modifiche e più spedizioni verso la parte Commerce sono degli asset che sono di fatto all'interno del database della Commerce ma questo tipo di definizione punta poi con una URL alla parte Content Manager dove effettivamente si trova poi l'immagine e quindi in pratica attraverso i meccanismi di workflow di Web Content Manager io posso innescare questo feed nei confronti della Commerce e attraverso il connettore vengono generati degli attachment degli asset inclusi all'interno di WebSphere Commerce che poi posso utilizzare come abbiamo visto prima mettendoli come contenuto collegato di un prodotto oppure se sono dei banner come banner promozionali quali sono i benefici di far interagire questi due ambiti quindi far interagire la parte Content Manager e la parte WebSphere Commerce qui ce ne sono elencati tanti però ne ho sottolineati tre che sono innanzitutto il fatto di poter fare comunicare insieme due strumenti estremamente potenti ciascuno per le proprie specificità e quindi arricchire in questo modo la possibilità di pubblicare contenuti più evoluti all'interno del proprio sito una cosa abbastanza importante è il fatto che separando la gestione dei contenuti dalla front end in cui vengono presentati dà maggiore flessibilità e anche dal punto di vista organizzativo consente di mantenere magari più separate le funzioni di coloro che gestiscono i contenuti e di coloro che poi li utilizzano e quindi anche aumentano la possibilità poi di concentrarsi per chi si occupa della parte di marketing nella realizzazione dell'attività di marketing e così pure gli stessi tool messi a disposizione di Western Commerce usufruiscono degli ulteriori potenzialità messe a disposizione della parte content manager come ad esempio quell'editor che abbiamo visto che consente di editare all'interno della preview del sito il contenuto stesso e quindi di aggiornare o modificare il contenuto nel momento in cui l'ho spostato ovviamente il tutto è estremamente utile nel momento in cui io ho già ad esempio dei contenuti gestiti con well content manager e posso in questo modo sfruttarli per i diversi tipi di siti che ho a disposizione questo tipo di integrazione non è l'unico punto di contatto con la parte Lotus o comunque con i prodotti di collaborazione in generale perché qui li ho messi solo così come citazione ad esempio un punto abbastanza interessante di contatto sarebbe il contatto con same time in tutte quelle esigenze in cui io posso arricchire il sito di commerce con delle modalità di click to call o click to chat per riuscire quindi a interagire direttamente con una persona a cui chiedere informazioni oppure esiste la possibilità di integrarsi con la parte Lotus Connection per tutto il discorso social e quindi quando prima vi ho mostrato che all'interno di WebSphere Commerce è possibile gestire i rating e review piuttosto che avere un blog dove le persone possono scrivere le proprie esperienze questo ad esempio si potrebbe amminare a un discorso di connection per creare delle community esistono dei clienti commerce che hanno fatto questo tipo di collegamento ad esempio clienti che vendono prodotti legati all'abbigliamento tecnico all'abbigliamento di montagna e che hanno creato delle community in cui i propri clienti possono parlare dei prodotti associandoli però magari alle foto delle gite che hanno fatti in montagna o comunque all'esperienza i viaggi che hanno fatto sfruttando i prodotti di quel produttore così pure ovviamente ci può essere un aggancio tra portale e WebSphere Commerce nel caso in cui e qui ho presentato un esempio nel momento in cui io voglio avere innanzitutto un portale istituzionale che mi dà tutta una serie di funzionalità in cui mostro la documentazione dei prodotti le brochure posso scaricare documentazioni manuali dei prodotti stessi ma poi per la vendita posso avere una sezione che mi rimanda alla parte commerce come ha fatto questo cliente che poi appunto per la parte commerce switcha sulla parte WebSphere Commerce e quindi riesce a gestire in questo modo tutti i contenuti non commerciali non strettamente legati alla vendita diretta per passare poi nello shop nel momento in cui vuole gestire la parte di commercio e quindi concludo in pratica rivoltando la figura che ho messo all'inizio cioè mentre all'inizio siamo partiti da una prospettiva smart e commerce di cui la parte customer experience è un elemento a supporto estremamente importante qui lo possiamo rigirare e quindi dire che nell'ambito di tutte le soluzioni che possono essere legate alla web experience sicuramente la parte commerce è una componente importante e quindi c'è anche da aspettarsi che le integrazioni tra questi due mondi siano sempre maggiori anche nei prossimi tempi grazie agli sponsor e grazie a voi dell'attenzione se avete domande il content è lo stesso del portale o sono le installazioni del portale monta anche il content sì è quello è la versione 7 sì sì è lo stesso non è che va sia la versione separata che la versione del portale penso che funzioni con entrambe le cose credo che in questa installazione sia un portale di cui viene usato la parte content però penso che funzioni allo stesso modo purtroppo i dettagli proprio di implementazione non li conosco però ho visto che queste tipi di macchine che hanno fornito sono sulla parte portal col content e quindi l'altro si aggancia l'integrazione avviene attraverso la chiamata proprio della pagina del del commerce da sempre avanti al portale oppure è come se possiamo una richiesta di url e si salva su una pagina di url c'è un'integrazione a livello api non so se questo risponde ok ecco no perché è brutto perché quello è in tre le parti che si trovava come se uscisse da un'altra parte no no è un'integrazione diciamo viene customizzata la parte web e commerce in modo da invocare poi il layer delle api per quanto riguarda l'internazionalizzazione lei diceva che appunto quello strumento si chiara commerce solution gestisce la definizione non solo un multibrand ma anche un brand internazionalizzato in più lingue il WCM non lo fa come cioè un esempio in cui io voglio importare un contenuto dal WCM e voglio averlo internazionalizzato come può essere gestita questa cosa? Allora innanzitutto sì come gestisce il WCS internazionalizzazione? Allora quando si parla di internazionalizzazione si intende che Westfair Commerce ha appunto questo concetto di starter store quindi di questi template che sono presenti già nativamente nel prodotto questi template sono già tradotti diciamo in 13 lingue il che significa che ad esempio la parte di tool che abbiamo visto il management center è possibile visualizzarlo in diverse lingue poi ovviamente per quanto riguarda le descrizioni dei prodotti bisogna comunque caricarli nelle diverse lingue e a quel punto lui riesce a mostrarli a seconda della lingua che è stata scelta nella lingua desiderata poi addizionali lingue possono essere aggiunte con esiste appunto viene documentata il meccanismo per aggiungere eventuali altre lingue perché ovviamente 13 sono tante ma non sono tutte sono di più di quelle che mettono a disposizione i nostri competitor però ovviamente ce ne sono anche altre quindi esiste la documentazione per aggiungere altri tipi di lingue quindi mi aspetto che anche nel caso in cui vado a recuperare dei contenuti sia necessario innanzitutto avere i contenuti già disponibili nelle diverse lingue e poi a quel punto fare un'associazione analoga a quella che viene fatta nel sito di commerce stesso nello starter store sì descrizioni descrizioni differenti cioè diciamo contenuti e a quel punto switch sì quello sì cioè non sono virtual porta differente no 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 è sempre all'interno di uno stesso diciamo nella stessa istanza di uno stesso shop ovviamente va appunto popolato con le descrizioni nelle varie lingue però poi ci pensa lui a a smistarle come? la lingua è anche il target per i prodotti che ho in Europa è diverso esatto quello è il discorso invece di avere la possibilità di fare più shop quindi e anche più cataloghi nel senso che e-commerce ha il concetto di un master catalog che è quindi quello generale in cui metto tutti i miei prodotti poi su questo posso costruire tanti sales catalog quindi tanti cataloghi mirati a una specifica esigenza di vendita che vanno poi ad abbinarsi al discorso del multi-site quindi anche alla possibilità di avere shop diversi gestiti da una stessa istanza di prodotto quindi io posso avere per la Germania uno shop che mostra un sotto insieme del catalogo per i prodotti che vanno presentati solo lì nella lingua una o due o più che si vuole presentare in quella nazione con anche un look and feel diverso anche proprio a livello di colori di grafica di cose che voglio mostrare rispetto al sito che faccio vedere in Francia che attinge allo stesso master catalog però con una vista diversa diciamo sia come prodotti che come lingue direi che siamo stati puntualissimi e quindi grazie 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 grazie